Hai mai desiderato scoprire i segreti dei migliori giochi? Benvenuto nel mio canale! Silverio Tintisona Qui troverai recensioni, trucchi e gameplay mozzafiato Ogni settimana Ti porterò nel cuore dei giochi più amati Vuoi migliorare le tue abilità? Ti mostrerò come Combattimenti epici, missioni segrete e tanto altro Pronto a dominare il mondo dei videogiochi? Resta con noi e non saltare neanche un video Ogni like e iscrizione ci aiuta a crescere e portare nuovi contenuti Unisciti alla nostra comunità di gamers Ti aspettiamo in prima linea Hai domande o suggerimenti? Lascia un commento Clicca su iscriviti e attiva la campanella Così non ti perderai alcuna novità Ci vediamo nel prossimo video Buon gioco a tutti!